Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità domani a Talenti mostra mercato a via Ugoietti tra piazza Piercarlo Talenti e piazza Giuseppe Primoli. Le linee di bus 60, 63, 66 e 69, 337, 435 e C5 saranno deviate su via Luigi Capuano e via Renato Fucini. Sempre domani la consueta pedonalizzazione festiva di via dei Fori Imperiali a spostarsi saranno le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. La prima deviazione questa notte è per la linea NMB.